Visto che la maggior parte delle persone ritengono che per essere genitori basti avere un utero o essere in grado di produrre spermatozoi, e visti i risultati disastrosi che queste persone hanno con i propri figli, proporrei la discussione di una legge che preveda un corso di formazione obbligatorio di almeno 100 ore per chiunque abbia intenzione di mettere al mondo una creatura innocente che non ha chiesto di nascere. Ecco, secondo me tra le persone sane di mente almeno il 50% capirebbero di non avere le caratteristiche per essere genitori, quindi si asterrebbero e quindi si eviterebbero tanti problemi nella società, mentre purtroppo per i narcisisti psicopatici non c'è nulla da fare e quindi continueranno a riprodursi per tutte le meravigliose ragioni che ho già spiegato in un video. Ad esempio, i figli ce li manda Dio oppure volevo tanto vedere come stavo col pancione.